Le caratteristiche che descrivono il modello di banca privata leasing possono essere riassunte in tre parole specialista, flessibile e digitale. Specialista in quanto riteniamo che il modello distributivo delle banche attuali sia stato ormai superato e le banche dovranno sempre più specializzarsi su singoli ambiti di business nelle quali potranno sviluppare competenze adeguate. Flessibile descrive quella che è la struttura organizzativa commerciale che la banca si è data ovvero essere concentrati su business specifici senza avere un supporto da parte di filiali e quindi di una rete fisica sul territorio ma agganciandoci a professionisti, agenti, mediatori, intermediari del credito fortemente coinvolti nel business. Digitale perché tutte le banche e più in generale tutte le attività non potranno che essere sempre più coinvolte in un processo di digitalizzazione dei servizi erogati che potranno permettere di sfruttare al meglio le opportunità che il digitale offre riducendo anche i costi e potendosi così concentrare sulle attività a maggior valore aggiunto. Grazie per la visione!